La gravidanza è il periodo più bello per la donna, nove mesi durante i quali va incontro a enormi cambiamenti psicofisici. Se l'ultimo trimestre di gestazione coincide poi con il grande caldo estivo, possono insorgere numerosi fastidi. Pressione bassa, insonnia, disidratazione, gambe e piedi gombi, nervosismo, problemi di circolazione, sono i disturbi più frequenti accentuati dall'aumento di peso e dalle variazioni ormonali. La gravidanza non deve però impedire alle future mamme di trascorrere delle belle vacanze al mare, anche se è bene gestire le giornate in spiaggia in modo corretto. Abbiamo chiesto al ginecologo i consigli per aiutare le donne in dolce attesa ad affrontare al meglio i mesi estivi e a limitare i fastidi accentuati dal caldo e dall'afa. Lo stato di gravidanza comporta una vasodilatazione generale per cui la gravida percepisce molto di più le alte temperature rispetto a un soggetto non in gravidanza, quindi sudando di più e avendo tutti i malesseri legati al caldo. I consigli che possiamo dare sono quello di bere tante acqua, dove per tanta noi intendiamo un litro e mezzo, due litri di acqua al giorno, indossare degli indumenti freschi, quindi non attillati e di fibre naturali piuttosto che di fibre sintetiche, fare delle passeggiate che aiutano a ridurre il gonfiore delle gambe, delle lunghe passeggiate soprattutto nelle ore fresche della giornata, godersi anche la stagione estiva andando al mare, però preferendo le prime ore del mattino e le tarde ore del pomeriggio e effettuare anche un'alimentazione abbastanza leggera, quindi non vuol dire non mangiare completamente, piuttosto mangiare tante volte durante la giornata, quindi anche cinque volte al giorno, facendo dei pasti piccoli e leggeri, quindi evitando le fritture, evitando i grassi e preferendo invece cibi sani, freschi, di buona qualità e soprattutto frutta e verdura che ci aiutano a contrastare il calo dei sali minerali.